C'è la nostra veste che è la nostra appartenenza alla chiesa. Immaginate se mi presentassi adesso che sia qualcuno a Roma. Per chi deve affrontare il giubilato della Misericordia ci vuole il resto della Misericordia. E' sempre la propria indicata. Doppiamente ben indovinato questo senso. Gratitudine per la collaborazione. Se vuoi puoi provare anche la buca. Lasciamo stare. Quello era per l'anonimato ma se ne hai apprecchiato questa cosa a persone. A parte della istituzione, dagli amici, dai tanti contratelli della Misericordia che hanno voluto essere qui. Ovviamente in queste circostanze io ho la massissima consapevolezza che è molto importante di Firenze che è il nostro calcio storico e che i famosi bandierai degli uffizi che vogliono fare a lei questo omaggio del bandierai degli uffizi. Pensavo fosse l'effigio del nostro Presidente Castigliano. Ha fatto molte cose a Firenze ma non ha fatto le cose. Tanti erano. Un altro... Un altro... Un altro...